tra le esperienze una ha cambiato la mia vita il mio modo di vedere le cose il mio modo di agire il mio modo di respirare e pensare si tratta di una sensazione che non so descrivere all'improvviso ho visto la mia vita da una nuova prospettiva da un punto di vista differente più ampio yoga è una parola che in vuol dire unione tutto è collegato per me è essere in connessione con il fluire della vita sentirsi parte del tutto sentirsi in pace con se stessi attraverso il movimento del corpo trovo stabilità e forza grazie a tutti grazie a tutti con la concentrazione al respiro profondo posso influenzare il mio corpo la mia mente e le emozioni e mi ricarico di nuova energia posso meditare per incontrarmi ed andare oltre la mente lo yoga è un dono per se stessi e chiunque può praticare yoga proprio come chiunque può respirare grazie a tutti 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 grazie a tutti